Io alzo lo sguardo e indirizzo lo sguardo verso i diritti delle donne. Questo è un tema che per me è importantissimo e non mollo un colpo su questa questione. In particolar modo in questi ultimi anni mi sto occupando di donne musulmane nello specifico che in Italia non sempre hanno la possibilità di avere voce e una piattaforma dove poter richiedere i loro diritti e dove poter cercare di portare avanti le loro questioni. Infatti in questi ultimi mesi ho sviluppato con altre persone il progetto Aisha che è proprio volto a contrastare le violenze e le discriminazioni sulle donne con focus sulle donne musulmane appunto perché crediamo che nel nostro ambiente purtroppo prevalgano dei retaggi culturali che vanno scardinati proprio per liberare le donne da quelle tradizioni che rinnegano i loro diritti. E invece vogliamo riscoprire una possibilità di vivere la propria fede in equilibrio e per scelta liberamente.